E' un'ipotesi impossibile Dario, anche perché a livello di viabilità il bottecchia non permette l'accesso di tifosi. Giuseppe io non arrivo neanche al problema viabilità, il problema come ha sottolineato Ciriani e poi come c'è ci sarà anche un intervento di un importante personaggio del ciclismo subito dopo Ciriani. Sì, infatti c'è un'intervista a Bruno Battistella, consigliere nazionale della FederCiclismo, che è voluto entrare in merito anche lui sulla vicenda del velodromo bottecchia. Ecco appunto, perché il velodromo, come dice Ciriani e sentirete fra poco, la storia di Pordenone va assolutamente rispettato come velodromo. Sentiamo le parole di Alessandro Ciriani. Questa confusione può essere chiarita esclusivamente dal Pordenone Calcio. Noi da circa un anno stavamo lavorando con la società per sistemare lo stadio Tognoni di Fontana Freda, dove la squadra deve andare a giocare, è arrivata come una doccia fredda la notizia da parte del Presidente Loviso, che non intende giocare a Fontana Freda, preferisce andare a Udine perché vuole realizzare il nuovo stadio. Questa di per sé sarebbe una bella notizia, però ho chiesto al Presidente di rimere ogni dubbio e quindi di presentare in 15 giorni un piano esecutivo tecnico e finanziario per realizzazione del nuovo stadio, che deve essere per forza realizzato dai privati, dato che il Pordenone è una società calcistica professionistica e quindi non può ricevere denaro pubblico. Se così sarà, se Loviso, come mi ha detto anche al telefono qualche giorno fa, veramente intenzionato a realizzare il nuovo stadio, sa dove farlo, ha uno studio tecnico e finanziario che è percorribile, benvenga, seguiremo anche a noi questa strada sicuramente. È una strada assolutamente impercorribile per diverse ragioni. La prima perché serve un insulto alla storia di questa città. Lo stadio Bottecchia, in realtà si chiama velodromo Bottecchia, legato alle geste ciclistiche e anche ancora oggi alle geste ciclistiche del passato, ma è legato anche all'attività di tante società ciclistiche che lì fanno allenare i loro ragazzi e per di più ospita le giornate internazionali ciclismo di Pordenone. Ma secondo aspetto è quello che la pista di ciclismo è vincolata dalle belle arti della sovrintendenza, quindi non può essere toccata, è la vera ragione per cui non si possono fare lavoro dentro. Terzo, immaginatevi se per caso dovessimo andare in serie B e come potremmo garantire l'ospitalità dei tifosi e i parcheggi in una zona che è già completamente saturata. Quindi è una proposta, se volete, romantica ma assolutamente non percorribile.